Ancora polemiche sulla via Sgroppillo di San Gregorio. Dopo il duro attacco del vice-sindaco Ivan Albo, che parlava del disinteresse del comune di Catania, arriva la risposta della controparte. Stupore e sconcerto per le dichiarazioni di Albo, sottolinea l'assessore Rosario D'Agata. Nelle riunioni alle quali ho partecipato con l'assessore Luigi Bosco, l'ingegnere spampinato della protezione civile regionale, che è anche il direttore dei lavori, il sindaco di San Gregorio, Carmelo Corsaro, con il quale c'è da sempre sintonia e a volte il suo vice, non ho mai registrato alcuna lamentela. Inoltre il comandante della Polizia Municipale mi ha confermato che nella zona sono stati svolti e sono in corso numerosi servizi di pattugliamento. Peraltro ho sempre parlato con il vice-sindaco Albo, che solo qualche giorno fa mi ha accennato ad alcuni problemi ai quali abbiamo già cominciato a dare risposta con la nostra Polizia Municipale. Restiamo dunque, come sempre, a disposizione di tutte le istituzioni che chiedono collaborazione, conclude D'Agata, nello spirito dell'Aggiunta Bianco, che crede molto nella filosofia del fare squadra. Certo, il fatto che il vice-sindaco Albo abbia preferito diffondere un comunale, alla stampa, piuttosto che cercare un contatto istituzionale, farebbe pensare alla volontà di far polemica piuttosto che di risolvere i problemi. Ma poiché giocare a scaricabarile non è utile ai cittadini, confermiamo la nostra massima disponibilità.